Era il 10 maggio del 1984 quando tutti i lavoratori dell'exit al tel dell'Aquila vennero fatti uscire dalla fabbrica per agevolare il loro rientro a casa. Fuori le strade erano completamente imbiancate. Oggi la storia, meteorologicamente parlando, si ripete qualche giorno prima di quell'anno davvero straordinario. L'ondata di maltempo annunciata dai meteorologi è arrivata puntualissima. Neve e freddo hanno colpito l'Aquila e la sua provincia nelle ultime 24 ore. Si è svegliato completamente imbiancato il paese di Roccaraso dove il sindaco Francesco Di Donato descrive un paesaggio invernale natalizio, un intero territorio ripiombato indietro di tre mesi con temperature che si aggirano intorno allo zero e nella notte scese di molto sotto lo zero. Tinti di bianco anche gli impianti dell'Aremogna dove sui 1600 metri di quota sono scesi 20 centimetri di neve. La neve non ha risparmiato l'altopiano delle Rocche dove sembra essere in pieno inverno. Neve abbondante anche sulle montagne di Torni in Parte dove questa mattina i fiocchi bianchi avevano spolverato i tetti ma soprattutto il maltempo ha creato disagio al casello autostradale di Torni in Parte dove sono scesi circa 10 centimetri di neve. Stesso scenario a Ovindoli, Campo Imperatore, Rocca di Mezzo, Pesco Costanzo, Rivi Sondoli, Campo Tosto. Si teme però per gli alberi da frutto ormai in fiori da diverse settimane in tutta la provincia dell'Aquila. Il presidente della Col di Retti dell'Aquila, Angelo Giommo, parla di pericolo scampato almeno per oggi ma la presenza di nevi a quote basse e il cielo sereno potrebbero determinare un abbassamento notevole delle temperature già da questa notte. È previsto infatti un miglioramento delle condizioni meteorologiche con ampie schiarite che potrebbero, senza la protezione delle nuvole, far scendere la colonnina di mercurio sotto lo zero a quote anche basse.